La gestione del centro sportivo 25 aprile del capoluogo Lombardo passerà da Milano Sport alla FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. In questo senso sta lavorando l'assessore Chiara Bisconti che ha già incontrato il presidente federale Alfio Giorni. Come noto, Palazzo Marino ha deciso attraverso la controllata Milano Sport di gestire in futuro solo le piscine milanesi, mentre i centri sportivi e le palestre verranno affidati a enti o società private, questo per alleggerire il peso dei costi sul bilancio comunale. Il primo passo riguarda l'impianto 25 aprile che sorge in via Cimabue a ridosso del Monte Stella, la montagnetta di San Siro. Dunque in tempi abbastanza brevi la gestione passerà alla Federazione di Atletica con l'obiettivo di trasformare la struttura in un centro sportivo di eccellenza a tutti i livelli. Il progetto prevede la costruzione di una pista coperta, una tribuna da 500 posti e forse anche una foresteria per ospitare una ventina di atleti. È già stato dato il via a un primo finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro. Si è esternata ieri la necessità di entrambi di lavorare sull'ipotete di impianto coperto, però quello che a me piace sottolineare è un programma con tre assi di sviluppo molto forti per cui manifestazioni, impianti nuovi e gestione di impianti esistenti. Questo vuol dire un soddilizio importante con la Federazione che vuole fare di Milano un centro nevralgico e Milano che riconosce all'Atletica un'importanza fondamentale. Tornerà anche la storica notturna di Atletica che era stata cancellata per motivi economici. Il comune di Milano con la Fidal pensa anche da tempo alla realizzazione di un nuovo palazzo dello sport in sostituzione di quello crollato sotto la nevicata del dicembre 1985. Tra le varie ipotesi è spuntata anche quella dell'utilizzo dell'area Expo dopo lo svolgimento dell'esposizione universale. Si è ribadito l'interesse di entrambi le parti di fare di Milano una capitale dell'Atletica importante con un programma di manifestazioni sportive di livello, un programma settennale per avere proprio a Milano un evento di Atletica di caratura internazionale una volta all'anno.